Il 6 giugno 1997 nasce ufficialmente l'Associazione Culturale Isola Comacina, con sede a Ossuccio, provincia di Como. Lo scopo principale dell'associazione è la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e ambientale del comprensorio di Ossuccio. L'associazione opera sul territorio a vari livelli e con varie iniziative. Propone e organizza visite guidate alle chiese romaniche di Ossuccio e al Sacromonte, svolge attività educative per studenti accompagnandoli durante itinerari culturali e artistici alla scoperta del territorio, organizza mostre tematiche, promuove e raccoglie fondi per i restauri del patrimonio artistico locale, organizza visite culturali per i soci ma con possibilità di partecipazione per chi è interessato anche se non iscritto, promozione del restauro del catino absidale della chiesa di Santa Maria Maddalena in ospedaletto, giornata dedicata all'architetto Pietro Lingeri, il razionalismo, progetto culturale romanico a Ossuccio e a Lenno, rivolto agli allunni delle scuole dell'Istituto Comprensivo della Tremezzina. Ossuccio, il tempo, la memoria e il gusto del bello, mostra fotografica di luoghi, persone, mestieri e tradizioni.